Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Garcini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori si segnalano possibili disagi tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in entrambe le direzioni. Per questi lavori è stato chiuso lo svincolo di Montelupo-Fiorentino, un'entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Firenze. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, chiusura ai mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezza del tratto tra il bivio con la variante di Valico-Baccheraia e Aglio. Sempre verso Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Sulla variante di Valico in direzione Bologna rallentamenti per il ripristino urgente della pavimentazione tra Badia e il bivio con la variante di Valico-La Quercia, siamo sul versante Emiliano. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!